Dalla domenica più triste, quella del block house che lo aveva respinto, proprio lì sulle strade di casa, a quella più bella, almeno stando le sue parole. In una settimana Giulio Ciccone si riprende, non il giro d'Italia per intero, ma un pezzettino, sì. Perché chi ne aveva decretato troppo presto il declino? Sulla salita che porta a Cogno dopo la tappa iniziata da Rivarolo Canavese ha dovuto in parte ricredersi. La Bruzzese della Trek Segafredo vince la frazione numero 15 del giro d'Italia e lo fa sul terreno più congeniale, staccando quelli che aveva portato via quando mancavano ancora tanti chilometri al traguardo e lasciandoli sul posto tutti, fino a Iucarti, l'ultimo ad arrendersi prima della passerella di Giulio al momento di tagliare il traguardo. Via gli occhiali, come sul Mortirolo 2019 quando aveva indosso la maglia azzurra di miglior scalatore, ora lontana, 51 punti e sulle spalle di Bowman della Giammo Visma. Ma non è importante adesso, così come non lo sono gli oltre 15 minuti che lo separano dalla maglia rosa che rimane sulle spalle di Richard Carapaz prima dell'ultima e decisiva settimana. Era fondamentale dare un segnale forte e Cicone lo ha dato, respingendo critiche a volte ingenerose e definendo il successo di ieri il più bello della sua vita ciclistica. Non era scontato e non è stato semplice riprendersi dopo la botta presa in Abruzzo, ci ha messo un po' di tempo e qualche giorno nel quale ha studiato il momento per ricominciare ad essere quel corridore a cui l'Italia delle due ruote ha tanto bisogno di affidarsi. Il gruppo ha contenuto e lasciato fare anche per risparmiare energie che da domani in avanti saranno fondamentali fino alla cronometro finale di Verona. I primi cinque sono distanziati da 61 secondi. Indley ha sette rintocchi di orologio più del campione olimpico Carapaz. Poi Almeida che ha la crono come arma finale. Landa è uno straordinario. Domenico Pozzovivo, martedì, mortirolo e valico di Santa Cristina nella Salo Aprica. Quel mortirolo che Giulio conosce bene e sul quale proverà di nuovo a battere i pugni sul tavolo. L'abbraccio con il compagno di squadra amico e co-regionale Dario Cataldo è l'immagine più bella del pomeriggio valdostano. Da domani si riparte con un ciccone in più a tenere alto il tricolore italiano nella corsa di tre settimane più dura che c'è.